I momenti più difficili sono quelli in cui ci si rafforza e si scoprono energie interne che ci rendono capaci di progettare, agire, sognare come non avremmo mai pensato. Supportare le attività economiche locali lavorando insieme ed in sinergia con l'amministrazione comunale, enti ed associazioni, proprio come era avvenuto durante il periodo di Natale. Quello che il 2020 ci ha insegnato è di non darci per vinti, non lasciarci sopraffare dalle complessità, spiega Etienne Lucarelli, assessore al turismo. Ed è per questo che l'amministrazione comunale ha voluto lanciare due progetti a supporto delle attività economiche, per non lasciarle sole anche dopo il periodo natalizio. Ecco perché abbiamo voluto lanciare un video, un video di sensibilizzazione, il messaggio di dover lavorare insieme con sinergia in questo momento particolare. E lo facciamo anche con due progetti. Uno sarà un allestimento cittadino, il lumino tecnico. Così vogliamo accendere una luce di speranza nella città che inizierà dal 10 di febbraio fino a Pasqua. L'impianto di filodiffusione nella città che rimarrà acceso per il momento fino alla fine di febbraio. Ed un progetto, un contest social, si chiamerà Raccontiamo Fano. Chi vorrà potrà fare delle foto che raccontano i nostri prodotti tipici, i nostri prodotti enogastronomici. Le attività economiche della nostra città, quindi degli acquisti, e quindi potranno partecipare a questo concorso e vincere anche dei bellissimi premi. Il messaggio che vogliamo lanciare è continuiamo a comprare locale, continuiamo a dare una mano alle nostre attività economiche, passiamo insieme questo difficile momento. Rientreranno nel concorso che partirà il primo febbraio e terminerà domenica 4 aprile le sole foto che riporteranno gli hashtag Racconta Fano e Visit Fano. Vinceranno le 15 fotografie che raggiungeranno il maggior punteggio ottenuto dalla somma di numero di like, numero di commenti e numero di condivisioni. Il messaggio che vogliamo lanciare, anche grazie al video realizzato dal regista Enri Secchiaroli, con la collaborazione del Teatro della Fortuna e dell'Orchestra Sinfonica Rossini, oltre a quello del concetto di insieme, ha proseguito l'assessore e continuiamo a comprare locale, dando una mano alle nostre attività economiche, passando insieme questo difficile momento. La città di Fano, quando si trova nelle difficoltà, ha veramente un carattere particolare, perché si unisce, fa sinergia e veramente emerge più di altre città. Ed io credo, oltre alle tante cose che anche noi come amministrazione stiamo cercando da fare, quindi dialoghi con i vari enti, lanciare positività in questo momento sia indispensabile. Per cui non ci dobbiamo fermare al periodo che abbiamo appena attraversato, ma dobbiamo farle anche nei mesi successivi, che diciamo fanno da preludio ad un'estate che speriamo sia più positiva di questi momenti. Stiamo uniti, aiutiamoci, parliamo di bellezza, raccontiamo le nostre peculiarità e sosteniamo le nostre attività economiche. Solo così saremo comunità.